In studio con noi per parlare di ACME ci sono Elisa Bonora, ben arrivata, e Luca Martini. Cerchiamo di capire da questi due ospiti che cos'è ACME, come funziona questa struttura e lo chiediamo innanzitutto a Elisa Bonora. Salve, siamo una cooperativa di commercialisti fondata nel 2007 e siamo a maggioranza femminile, quindi siamo quasi tutte femmine, tranne il fondatore che è Luca Martini ed è il legale rappresentante della nostra cooperativa. Come nasce Martini questa idea di una cooperativa di commercialisti, fra l'altro di prevalenza femminile? Nasce sulla scia di una riforma poi affossata in Parlamento, ma noi abbiamo deciso comunque di continuare e di metterci assieme per collaborare sempre meglio. Elisa Bonora, ma che servizi fate come cooperativa di commercialisti? Allora, fondamentalmente facciamo quello che fa la maggioranza dei commercialisti, quindi non starei a delencarvi tutti i servizi, anche perché annoierei tutto il pubblico, però ci terrei appunto a comunicarvi quello su cui noi facciamo leva maggiormente, cioè è il nostro metodo di lavoro, quindi non tanto ciò che offriamo, ma come lo offriamo, cioè il nostro metodo, noi lo chiamiamo il metodo di lavoro. Un punto di forza è questo? Esatto, sì. Cosa consiste? Giusto per capire... Allora, in parole povere, il nostro punto di forza è appunto che il cliente viene da noi e non è solo il singolo professionista ad accoglierlo, ma lui venendo da noi entra come in una famiglia, cioè tutti noi siamo pronti per lui, quindi ogni componente della cooperativa è al suo servizio, diciamo così, quindi condividiamo tutte le informazioni, condividiamo tutti gli eventuali problemi e cerchiamo di portarlo al successo. Immagino Martini che sia anche più facile lavorare in team nell'oceano di modifiche delle leggi italiane, no? Perché il commercialista da solo come fa a seguire tutto quello che accade? Sì, sì, hai esattamente inteso. Il fatto poi è che una modifica interviene su dei fatti. I fatti vengono conosciuti dalle persone che operano in quel momento su determinate attività e quindi ciascuno è specializzato in qualcosa sul quale interviene una modifica. Questo qualcuno segnala a qualcun altro, che è più competente di lui in certe cose, i fatti e quest'altra persona è in grado, sulla base della conoscenza, di trovare una soluzione. Si può fare anche ricerca e sviluppo per le imprese o per il singolo cittadino per capire come gestire meglio, magari faccio un esempio, un'acquisizione, una modifica societaria, una parte di creazione di una nuova azienda. Beh, ricerca e sviluppo è una bella parola, è portata nel nostro concreto ed è una delle cose che caratterizzano il metodo, era, parliamo di ormai 15 anni fa, cercare su ogni cliente che quel caso diventasse il caso per tutti, cioè isolare nel caso quelli sono gli elementi che possono essere rintracciati in un nuovo caso. Questo porta a velocizzare il procedimento di analisi e di estrazione dai nuovi casi, di quelli che sono gli elementi del problema che devono essere portati a soluzione. Elisa Bonora è anche responsabile commerciale del team, intanto dove operate voi? Allora noi siamo a Imola, siamo in via Cogne, 35, ci siamo trasferiti lì nel 2008, per dare una piccola indicazione stradale perché è una via abbastanza nuova, quindi non tutti ci sanno raggiungere facilmente, praticamente le due torri nuove di Imola, quelle molto alte che si vedono da quasi tutti i punti di Imola, noi siamo al centro, in quella più piccola. Quindi operate principalmente nel territorio imolese o anche fuori? Ma in realtà riusciamo a spazziare molto, quindi noi abbiamo clienti un pochino da tutte le parti, cioè avevamo clienti anche a Roma, cioè quando ci chiamano noi corriamo. Ed essendo una cooperativa siete in grado di fornire servizi a tutti o siete specializzati in qualche settore? Perché voglio capire bene questo sistema di vasi comunicanti del team, no? Allora, appunto, come dicevo prima, siamo una grande famiglia e ognuno ha, diciamo così, un suo punto di forza. Quindi i vari professionisti hanno una mansione principale e grazie appunto a questo punto riusciamo a seguire chiunque. Quindi dal piccolo, medio, grande, cioè noi riusciamo a seguire chiunque e sotto qualsiasi aspetto, perché riusciamo appunto a spaziare grazie alle varie competenze dei professionisti in quasi tutti gli ambiti. Non voglio essere un pochino troppo megalomane. Dottor Martini, ma chi è che ha bisogno oggi principalmente del commercialista? Il mercato è infinito, nel senso, data la materia giuridica contabile e contrattuale, oltre che fiscale ovviamente, adesso parlando degli ultimi casi, magari vedo, vedi imprenditori che hanno problemi societari, che non hanno per esempio la competenza per capire e risolvere problematiche che riguardano il loro patrimonio, come anche però componenti del CDA, ovvero direttori generali o amministratori delegati che si trovano in situazioni turbolente. Ovviamente, adesso sia che l'azienda vada bene, che l'azienda sia in crisi, le situazioni più o meno sono tutte turbolente, perché lo sviluppo porta a situazioni dinamiche in cui c'è turbolenza e quelle problematiche di per sé sono turbolente. Per cui avere qualcuno che aiuta il soggetto che in quel momento è nella bufera a tirare le fila, io vedo che porta a soluzioni o evita sicuramente di fare grossi errori. Oggi il commercialista è un consulente o è anche un confessore? Non vuole essere una domanda da Mazzu, non vuole essere proprio per capire. No, ma sono d'accordo, ma questa è una vecchia teoria del confessore laico, del prete laico. No, assolutamente. Il professionista normalmente è una persona comune che sia specializzata con passione su certe cose e vedendo ripetersi di certi problemi sa indirizzare subito la loro soluzione. Non ha niente a che fare con, se non per quanto riguarda la privacy, perché prima Elisa parlava della condivisione, però dipende, ci sono alcuni elementi che vengono condivisi che servono per la soluzione o successo del cliente, ci sono altri che invece rimangono riservati come in tutti i professionisti. Molti temi li tratteremo anche in una seconda puntata con sempre ospite ACME, però voglio sapere da Elisa, oggi nascono molte start-up, piccole, medie, ma più che altro piccole aziende di giovani, come si possono aiutare? Qual è il ruolo di un team di commercialisti nei confronti dei giovani? Allora, io rispondo brevemente alla domanda perché se io vi dicessi come ci riuscirebbe chiunque, visto che è il nostro punto di forza, io dico chi, insomma, volesse sapere la risposta alla sua domanda, potrà contattarci, contattarmi e gli faremo capire come muoversi, perché ne abbiamo avute di start-up, di clienti che hanno aperto dal nulla e, insomma, grazie anche al nostro piccolo contributo, insomma, sono riusciti ad emergere, quindi noi riusciamo, noi abbiamo i mezzi e noi sappiamo come fare, quindi chi vuole noi siamo a Imola. Ci fermiamo qui per questa prima puntata, ringrazio Elisa Bonora e Luca Martini, ma ci ritroveremo per parlare ancora di altri temi con ACME. Grazie.